Federica Fontana qui a Nickelodeon a Casa dei Loud, tu sei mamma, hai dei bambini splendidi, uno è qui vicino che controlla tutto e supervisiona, cos'è che ti ha colpito di Casa dei Loud? Beh sinceramente non vorrei essere nei panni dei genitori, più che del piccolo protagonista Lincoln che ha da vedersela con dieci sorelle, penso che ci sarà da divertirsi perché io mi diverto a casa con due, quindi fratello e sorella, ma con undici figli le cose incominciano veramente a prendere una forma diversa, penso che sarà divertente, penso che lo guarderò anch'io con i miei ragazzi e non vedo l'ora che sia lunedì, anzi oggi volevamo vedere qualcosa in più Ma non siamo riusciti Io ho due figli che sono molto complici, Sofia e Noè, si vogliono bene, giocano insieme e devo dire che nell'ultimo periodo però hanno iniziato a capire che cosa vuol dire litigare, quindi mi sa che prenderanno spunto da questo cartone Le loro dinamiche, la loro semplicità, i loro giochi, il loro linguaggio, io tante volte li sento parlare e dico ma io non gliel'ho insegnato e quello lo hanno preso dalla televisione, certi slang, certi modi di dire E quindi si devono ritrovare in un mondo che gli piace, un mondo colorato e possibilmente magari con scherzi, con dispetti, con litigate ma sinceramente lontano dai veri e reali problemi quotidiani che abbiamo noi grandi Perché sono bambini e devono continuare ad essere il più possibile Io rino perché indietro di te c'è un po'